Gentili telespettatori, buona giornata. Come è andata l'affluenza nel primo giorno delle elezioni comunali? A Roma ha votato il 20% in meno rispetto al 3 e il 4 di ottobre. Si è fermato al 30,87% degli elettori. Al primo turno invece era stata del 36,82. A Torino il 32,79 contro il 36,92, quindi un po' più di affluenza, diciamo solo il 15% in meno a Torino. A Trieste su un totale di 184.000 elettori hanno votato 57.000 pari al 31%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti e arrivederci.